Musica Ovviamente sono molto contenta di aver fotografico La tematica ambientale mi è molto cara e soprattutto spero che il messaggio che portiamo possa in qualche maniera sensibilizzare coloro che potranno vederlo ad un'attenzione maggiore all'ambiente e all'acqua che è un bene che è vitale per tutti noi. Mi ringrazio veramente Sandra perché è perduto subito in questa operazione, io ho parlato di questo film prodotto dall'alto calore, poi c'è la regista che ne parlerà, il regista che ne parlerà, il regista che ha dato la voce a una canzone meravigliosa che purtroppo si sentono alla fine, non all'inizio, ma è bellissima. I più grandi, tra i più grandi e salubri, salubri del pianeta. Noi forniamo, tanto per darvi un'idea, l'acqua alla Puglia, tutta la Puglia, tutta la Puglia, che è uno dei secondi acquedotti più grandi del mondo. E' bellissimo che il 50% dell'acqua va perduta nelle tubature sotterranee e questo succede perché le tubature, siccome stanno sottoterra, non hanno alcun interesse per i politici, per essere messi a posto, perché non c'è un ritorno mediato. E' bellissima. Buonanotte, grazie a tutti, ci vediamo a Valencia.